Anche stamattino ho espresso la mia solidarietà ad Anna Edalgò, la sindaca di Parigi, al console francese a Napoli, al presidente Macron che ha sempre utilizzato parole di grande affetto e amore per la nostra città. Napoli e Parigi sono due grandi capitali, due città unite dalla storia, da grandi rapporti di amicizie e siamo sconvolti dalle fiamme di ieri che sono una ferita per la cultura, per la storia e per l'umanità intera. Quindi mi auguro che sia un segnale forte per l'Europa di investire sulla difesa del proprio patrimonio monumentale e culturale e sono convinto che Notre Dame ritornerà a splendere come un tempo.